Un impegno costante e concreto sull'area delle expertite, in attesa dell'invio dal Ministero o della bozza del protocollo d'intesa per giungere alla definitiva restituzione dell'area a tutti i piacentini, così il sindaco Patrizia Barbieri replica al Comitato Amici della Partite che ha criticato l'operato dell'amministrazione in merito alla trasformazione del terreno militare tra Via Primo Maggio e Via Emilia Pavese in un enorme parco pubblico a disposizione della collettività, una richiesta portata avanti da anni ma ancora oggi non concretizzata. In consiglio ci sono stati dei dibattiti in cui si tentava ancora da parte del centro-sinistra di ubicare nella partite l'ospedale, insomma noi abbiamo preso una decisione chiara e netta che è quella del parco, poi c'è stato un confronto per vedere, di definire quello che è una bozza di protocollo d'intesa per restituire quest'area finalmente alla città. Quando questa bozza potrà diventare un vero e proprio protocollo? La bozza in teoria doveva già essere da noi per la fine di febbraio ma ci sono stati dei ritardi, io ho sollecitato, noi pensavamo già di poter avere questa possibilità per la primavera, non so se non ci rispondono ovviamente in questi giorni, è evidente che poi può slittare all'autunno.